Si sente spesso parlare di social, di innovazione, di realtà aumentata, di tantissime macchine che stanno prendendo il posto delle persone. Però si pensa sempre che nel nostro settore questo non debba mai accadere. E nonostante abbiamo assistito alla scomparsa di realtà molto importanti che dall'oggi al domani hanno chiuso, prova soltanto a pensare a Blockbuster, riteniamo che magari il nostro settore, nello specifico quello degli investimenti immobiliari, non abbia bisogno di seguire certe tendenze o di rimodernarsi man mano. Personalmente ritengo che tutti i settori devono essere in continua evoluzione e anche il nostro, ma come possiamo fare noi investitori immobiliari a mantenere il passo con questa tecnologia che sta avanzando in continuazione? Sicuramente è necessario sviluppare nuove competenze e non sempre è possibile acquisirle in maniera diretta. Allora l'alternativa potrebbe essere quella di ampliare il team di un investitore immobiliare. Per farti un esempio ti descrivo qual è il team di Specchio Dinamica. Come hai potuto vedere ci sono nuove figure all'interno del nostro team proprio perché le esigenze sono nuove ed è necessario essere sempre al passo con i tempi.